Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere sostenermi in maniera più attiva e più continuativa e quindi vi va ad iscrivervi al canale, compare da questa parte la campanellina e ricordatevi di attivarla alla voce tutti. In questo modo man mano che io metto online i miei video puntualmente vi dovrebbe arrivare la notifica. Allora vi vedete qui a girare dal mio bagno completamente struccata, poi insomma con i capelli che adesso poi insomma c'è anche la lotta con la luce ma si vede piuttosto modello Ananas oggi perché insomma quando è così vado a fare, mostrarvi qualche prodottino che ci aiuta per la nostra skin care e questi poi adesso ecco sto così intanto in modo che vediate la confezione poi pian pianino andiamo a scoprire insieme esattamente di che cosa si tratta io magari si ecco ve la vicino così poi vado a riportare tutto in infobox e io ringrazio l'azienda Molitti Lorry per avermi dato la possibilità di testare questo bello prodottino io pian pianino vado ad aprirlo e scopri allora si presenta così con la spatolina allora cosa che io adesso vado a fare diciamo off camera vado comunque a disinfettarla perché scoprirete che effettivamente quando poi andremo a vedere il prodottino qua sto anche attenta magari a non tagliarmi la testa e ad utilizzarlo insieme che è importante che appunto la nostra bella spatolina sia disinfettata le mie manine sono comunque anche loro belle disinfettate poi insomma in caso un'altra passatina ci sta bene ho aperto e qui potete notare sì qui luce o non luce si nota e si nota anche questo bel colore oro di questi bellissimi patch per occhi che io appunto adesso in diretta andrò ad sperando di non combinare qualche guaio andrò ad applicare insieme insomma a tutti e tutti voi che state guardando questo video e comunque vedete anche in pigiama proprio per favorire il relax questo lo potete vedere mi vado a ridisinfettare accuratamente le mani e con la mia spatolina vado intanto sì qua varie volte mi sto tagliando la testa ma pazienza vado a prendere cercando di ok ce l'ho fatta come vedete ne ho eccomi qua mi allontano voi vedete un pochino meglio con il primo patch e vado ad applicarlo sì io mi sto aiutando anche poi con lo specchio perché appunto vado ad applicarlo correttamente io mi allontano un po' comunque riuscite a vedere che è abbastanza grande e va a coprire una bella superficie del viso e comunque del contorno occhi quindi spatolina e vado a magari se non mi ritaglio la testa e vado anche appunto con il mio secondo patch eccoci qua appoggio poi la spatolina e procedo anche qui insomma mi riguardo nello specchio in modo che tutti e due siano abbastanza applicati in modo simile sui singoli occhi e adesso vado a ridisinfettare la spatolina applico poi per richiudere appunto questo che si può chiamare il tappo di sicurezza e andiamo a richiuderli nella loro confezione come potete vedere volendo sono anche molto pratici da poter rapportare con sé ovunque e come vedete io una volta insomma li ho fissati siamo anche chiacchierando piacevolmente e qui sono e qui rimangono allora adesso io poi ho sempre dei preziosi appunti e vi vado a parlare un po' delle loro caratteristiche e poi insomma qualche utile segnalazione insomma e anche qui mi auguro di essere appunto il più precisa possibile allora contengono come insomma si è visto anche dal colore oro proprio delle nanoparticelle di oro che aiuta la microcircolazione contengono anche il collagene idrolizzato che appunto rende la pelle più liscia e visibilmente rassodata l'acido ialluronico è presente nel nome ING come sodium ialluronate quindi il sale sodico dell'acido ialluronico che trattenendo l'acqua favorisce appunto l'idratazione e contengono anche l'estratto di avena che è un antiossidante e che contribuisce comunque a rendere la zona del contorno occhi più luminosa allora come potete vedere sono dei prodotti comodi da applicare comodi da portare con sé ovunque comodi da tenere su precisazione che assolutamente magari qualcuno scusate stava cadendo un po' tutto vedendo come sono fatti proprio dal contenitore l'aveva intuito ma questi patch per occhi assolutamente non vanno conservati in frigorifero perché rischiano di sfaldarsi ma vanno tenuti a casa insomma diciamo nel vostro insieme alle altre vostre referenze per la skin care ad una temperatura di circa 20 gradi adesso io li tengo su anche 20-25 minuti perché appunto a me danno questa fantastica sensazione di freschezza di relax, di sollievo comunque vi consiglio di iniziare tenendoli su 5 minuti avvertite una leggerissima sensazione di pizzicore che poi scompare nel giro di qualche secondo segno che comunque i patch stanno svolgendo correttamente la loro azione sono adatti anche agli uomini come potete vedere io mi riavvicino attenzione a questo poi ok però insomma è perfetto sì l'ho riapplicato anche un attimino perfettamente qui sì se io mi metto così lo notate sì adattano proprio bene a ogni viso e ogni forma di viso allora a me piacciono molto favoriscono il relax poi adesso mi viene proprio da chiudere anche gli occhi per sentire ancora maggiormente questa sensazione di freschezza che danno al mio sguardo ripeto come tempistiche a partire dai 5, 10, 15, 20 se come me vi piace anche arrivare a 20-25 minuti in maniera un pochino graduale lo potete fare serenamente potete poi applicarli secondo la vostra preferenza quante volte al giorno volete non è che ci sono qui delle regole da seguire sono dei prodotti che danno idratazione che danno comfort che danno luminosità al nostro sguardo ma sono anche insomma una grande e bella coccola che possiamo appunto scegliere di concederci quando lo preferiamo insomma quando assolutamente siamo noi a preferirlo ecco fatemi sapere magari cosa vi ha incuriosito di più di questi patch se vi piace usare i patch occhi se come me piuttosto che confezionati singolarmente preferite questi perché viene male con qualche accortezza sono facilissimi da applicare si possono portare con sé ovunque anche prima che un attimo uno dei due mi è sceso è tornato subito dove doveva stare anche come praticità io assolutamente li preferisco rispetto agli altri formati torno qui con la confezione in modo che poi comunque giù in infobox andate assolutamente sempre a guardare gli infobox del video vi lascio anche il link in modo che possiate vederli bene sono comunque acquistabili su Amazon io ringrazio di nuovo l'azienda l'azienda scusate Mollitti Lorry per questo fantastico prodottino e se vi fa piacere ditemi un pochino la vostra nei commenti stavo per dimenticarmi l'ultimo prezioso secondo me consiglio se riuscite anche magari a tenerli in una condizione di totale relax che vuol dire appunto pigiama magari stesi anche sul divano così con l'occhietto chiuso diciamo che ve li vi godete ancora di più la loro applicazione se riuscite a farlo anche due cinque minuti ottimo chiaramente più tempo riuscite a farlo e più poi insomma va ad aumentare la sensazione di piacevolezza e di relax io vi mando un bacio grande un altro e un altro ancora vi ringrazio appunto per aver visto anche questo mio video ringrazio i vecchi iscritti i nuovi iscritti tutte le persone che mi sostengono qui su YouTube e da un po' anche su Instagram poi giù in infobox vi lascio anche tutti i riferimenti del mio profilo Instagram e quindi ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo un bacio che ci sta sempre bene ci vediamo nel mio prossimo video ciao 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 ciao